A che punto siamo a cene con i lavori al ponte? Sono stati affidati i lavori, la ditta è stata assegnata, è stato assegnato il lavoro a una ditta che ha vinto la gara, abbiamo già fatto un tracciato minimo, abbiamo tracciato le linee per definire i parcheggi che saranno realizzati e anche le linee di demarcazione mezzaria della carreggiata e abbiamo fatto giusto appunto oggi una valutazione con un gruppo di lavoro stretto in collaborazione con i progettisti e anche la ditta, quali potrebbero essere le migliori da fare immediatamente onde evitare di crearci dei problemi in cammino, facendo il progetto una opera importante, una opera secondaria. Riusciremo a non toccare quasi nulla del verde, se no mezzo metro lungo la carreggiata semplicemente modificando il muro di recinzione e allargando leggermente la carreggiata per realizzare dei parcheggi in sicurezza, realizzando anche un marciapiede opposto per garantire che le persone che accederanno alla passeggiata avranno i migliori criteri di sicurezza e viabilità e presumo che i lavori partiranno in modo efficace, diciamo che le prime ruspe le vedremo presuppongo proprio il 21 di agosto, a termine del periodo vacanziero. Questi sono i tempi di partenza, di start-up, del primo lotto di lavori. Poi i lavori sul ponte vero e proprio cominceremo a vederli presumibilmente a iniziare dall'autunno. Tempo di realizzazione generale penso maggio 2012.